ciao ragazzi sono Emanuele bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al video making oggi sono qui per parlarvi del flash cactus rf60 un flash utilizzabile solo in manuale ma che comprende il modulo di comunicazione wireless integrato cactus v6 che ci permette di far comunicare questo flash con un'altra con un'altra scusate unità cactus v6 senza doverne per forza acquistare due se vi foste persi il video dedicato a questo fantastico strumento trovate il link in descrizione il cactus rf60 ha un numero guida di 56 a 100 iso con parabola zoom 105 mm parabola zoom che va appunto da 105 fino a 24 mm e la copertura della luce ai bordi si può ampliare ulteriormente con il classico diffusore grandangolare estraibile da qui da dove si può estrarre come potete vedere anche il classico mini pannello riflettente che aggiunge un punto di luce riflesso negli occhi del soggetto e funge anche da parziale superficie di rimbalzo per la luce per andare a riempire un minimo le ombre come anche sul cactus v6 anche su questo cactus rf60 sono selezionabili quattro gruppi e 16 canali e i livelli di potenza sono anch'essi regolabili da un centoventottesimo fino a un primo la testa del flash si può alzare fino a un massimo di 90 gradi con step intermedi di 75 60 e 45 gradi mentre si può orientare fino a 180 gradi a sinistra e fino a 90 gradi verso destra ciò che mi ha un po spiazzato di questo flash è la posizione della filettatura per il treppiede guardate dov'è sono sempre stato abituato a quella della nikon che si trova se ricordo bene sotto al piedino in dotazione sul medesimo lato abbiamo anche una porta micro usb e l'ingresso per il cavo sincro flash il cactus rf60 ha tre modalità di funzionamento local master e slave local è quando il flash è montato direttamente sulla fotocamera sulla sinistra possiamo impostare la potenza del flash e sulla destra lo zoom della parabola con la modalità master invece quando stiamo utilizzando più di un cactus rf60 possiamo utilizzarne uno come centro di controllo montato anch'esso in questo caso sulla fotocamera per regolare le potenze degli altri rf60 impostati in modalità slave cliccando sul pulsante group possiamo andare a stabilire la potenza e la parabola zoom di ciascun flash accoppiato con un determinato gruppo se invece vogliamo regolare tutti i gruppi insieme basta tenere schiacciato il pulsante group possiamo anche spegnere un singolo gruppo selezionandolo e tenendo schiacciato il pulsante next sono anche presenti degli alias con i quali possiamo rinominare i gruppi alias che fanno riferimento ai vari tipi di luce che siamo soliti utilizzare nella fotografia con i flash basta selezionare un gruppo schiacciare contemporaneamente i tasti group e menu e decidere quale alias usare così quando dovremo cambiare potenza per esempio alla rim light sapremo subito su quale gruppo lavorare slave invece come avrete capito ormai è una modalità che si utilizza quando il cactus rf60 è staccato dalla fotocamera ed è dipendente da un'unità master all'interno sono presenti dei sensori che fanno scattare il flash quando viene visto un altro lampo molto utile questo se lavoriamo all'interno di una stanza senza alcun'altra interferenza luminosa è presente anche un'interessante funzione la funzione multi meglio conosciuta come stroppo che consente di ottenere scatti conseguenze cicliche del lampo ad elevata frequenza programmate in base al tempo di scatto desiderato nella stessa foto possiamo ad esempio catturare più momenti della stessa azione basta selezionare il numero di flash per scatto e la frequenza di lampi per secondo ad esempio se in un secondo voglio 10 lampi faccio 1 per 10 che fa 10 e imposto quindi numero di flash per scatto 10 frequenza lampo al secondo 10 è consigliabile utilizzare questa funzione con potenze non troppo alte in modo da non stressare troppo il flash e dargli il tempo di ricaricarsi è una cosa che non ho detto quando il flash è pronto la spia test rimane accesa la funzione delay timer consente invece di ritardare il lampo del flash praticamente la funzione del flash sulla seconda tendina nella quale il flash viene attivato al termine del tempo di scatto utile per avere un soggetto fermo grazie al lampo del flash e ottenere invece delle scie dagli altri oggetti in movimento grazie al tempo di esposizione prolungato infine la funzione high speed sync che serve per superare il limite tecnico dei tempi di scatto con il flash che di solito si attestano su un 256esimo di secondo con questa funzione possiamo utilizzare tempi molto più rapidi ad esempio per congelare il movimento di un soggetto con però una significativa perdita di potenza per cui o avviciniamo il flash al soggetto oppure ne utilizziamo due insieme per cui ragazzi questa era una panoramica del cactus rf60 acquisto che valuterei sia per coloro che vogliono aggiungere un flash alla propria attrezzatura sia per coloro che stanno valutando l'acquisto del sistema cactus v6 infatti visto che l'rf60 è compatibile con il v6 avendo già al suo interno il modulo di comunicazione wireless vi basterà un solo cactus v6 da attaccare sulla vostra reflex per comandare a distanza questo rf60 il tutto senza muovere un passo dalla fotocamera oppure come me avete già un flash di un altro brand volete acquistare un altro e nello stesso momento provare il sistema cactus v6 bene non dovrete acquistare un flash e tre cactus v6 uno per comandare dalla fotocamera uno per il flash che avete uno per il flash che andrete a comprare vi basteranno solamente due cactus v6 più il cactus rf60 almeno così ho deciso di fare io visto che avevo trovato l'rf60 a un prezzo abbastanza vantaggioso se volete in descrizione trovate i link ai prodotti cactus v6 e cactus rf60 su amazon per cui ragazzi a me non resta altro che ringraziarvi della visione vi ricordo che mi potete trovare sia su facebook che su instagram e io vi do appuntamento ai prossimi video ciao a tutti